Don Nicola, quest'anno la NACA di Davoli è preceduta da un convegno culturale che rappresenta un momento di formazione e di crescita per tutti, ma in particolar modo per le nuove generazioni affinché possano amare e trasmettere le tradizioni popolari. Sì, è vero, le tradizioni sono veramente un arricchimento per la popolazione, ma soprattutto anche nell'ambito della fede. Le tradizioni, i riti della comunità di Davoli possono veramente svegliare la fede dei credenti in un mondo dove oggi purtroppo non si crede più a nulla e soprattutto anche ai valori. Allora, quello che fanno la comunità di Davoli può essere veramente un motivo d'orgoglio, ma soprattutto anche un motivo per andare avanti a non scoraggiarsi, perché veramente attraverso un semplice rito, quello che noi abbiamo visto e ne abbiamo parlato, può dare veramente tanto. Ecco, qual è il messaggio che si coglie proprio da questa tradizione popolare, una rappresentazione davvero molto sentita ed un mix di fede e di tradizione? È la speranza, perché il segno dell'albero sta proprio a indicare il peso, il peso che Cristo portò tramite la croce di portare i nostri peccati. E quindi anche la comunità di Davoli vuole essere partecipe della sofferenza di Cristo. Anche loro vogliono portare un peso, non possono portare la croce, ma portano comunque un albero, un abete che sa indicare il suo peso. E come noi ben sappiamo il venerdì santo è il momento della disperazione, perché abbiamo perso colui che ha donato la vita per noi. E quasi c'è questo senso di vittoria da parte delle tenebre. Invece la comunità di Davoli attraverso il rito della nache, quindi degli abetti, dice no, non è vero. La speranza è che Cristo risorgerà, infatti vedere quelle luci che danno veramente speranza alla comunità di Davoli è veramente un modo tangibile e forte per dire sì, Cristo è morto il venerdì santo, ma sappiate che fra tre giorni Cristo risorgerà. E noi vogliamo manifestare questa fede che Cristo risorgerà veramente, risorge nella nostra vita, nei nostri cuori, nella nostra comunità. Un messaggio più bello di questo veramente è un motivo di orgoglio, essendo anche qui come parroco. Ecco, dicevo, un mix di fede, di tradizione, ma anche di folclore. Sì, c'è un momento di folclore, soprattutto da parte dei canti della pietà popolare, dove vogliono anche loro esprimere con il canto, con la processione e soprattutto anche con quel senso di rispetto e di silenzio, la morte di Cristo. E allora anche il canto, il folclore, il dare anche, il gridare questo dolore, sta veramente a significare come l'uomo oggi vuole gridare a che cosa? Vuole gridare al mondo intero per dire basta contro la violenza, contro ciò che veramente ci opprime, contro ciò veramente che ci fa male e soprattutto basta al peccato, perché veramente ci fa stare male. E allora il folclore dà anche la possibilità di dare questa speranza e dare una gioia e dire al popolo intero di rialzarsi. Oggi un convegno che precede la manifestazione, la NACA di Davoli, che è una tradizione consolidata. Sì, questa è una tradizione qui a Davoli ormai consolidata negli anni, da tanti tanti anni, da sempre. È una tradizione che ci riporta alla nostra infanzia qui a Davoli. Noi come amministrazione la stiamo sostenendo da quando ci siamo noi qui alla guida del comune, perché riteniamo che l'impegno che questi ragazzi ci mettono, loro iniziano a lavorare già a gennaio, fino a poi a venerdì santo quando esce questa processione con gli abeti tutti illuminati. Quindi c'è un grande lavoro dietro questa manifestazione e io credo che un'amministrazione attenta a queste cose deve sostenerle anche dal punto di vista finanziario. Quindi noi è da due anni che eroghiamo il contributo, come giusto che sia. Quest'anno in più noi abbiamo messo in campo insieme all'associazione che segue questa manifestazione anche un convegno per far capire a tutta la cittadinanza, tutta la popolazione, ma soprattutto alle nuove generazioni che queste manifestazioni vanno mantenute, vanno mantenute vive perché sono la cultura di un popolo. E quindi conoscendo poi la cultura dei popoli si cresce, si cresce bene, si cresce in modo positivo. Quindi quest'anno c'è questo convegno, io credo che da questo si possono acquisire anche nozioni che noi fino ad oggi non avevamo di questa manifestazione. L'abbiamo fatto veramente con volentieri perché io credo che impegnare una cifra, perché poi è una cifra non tanto consistente, giusto per dare l'idea di come il Comune vuole essere vicino a questi ragazzi che si impegnano e credo sia un fatto molto positivo.